In pensione fino a tre anni prima con il 9% in meno di soldi in tasca. In sintesi è questa la proposta dell'Inps sulla flessibilità, la facoltà di andare in pensione anticipatamente rispetto a quanto stabilito dalla riforma Fornero. L'ha formulata oggi il presidente dell'istituto, Tito Boeri. Si potrebbe andare in pensione a partire dall'età di 63 anni e 7 mesi. Per ogni anno anticipato si pagherebbe una penale del 3% dell'importo dell'assegno. Una proposta con dei costi inferiori a quelli del progetto attualmente sul tavolo di Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera. L'ostacolo ovviamente è quello dei conti pubblici, ma Boeri ha una soluzione anche per quello. Basta farsi certificare da un ente esterno che l'aumento della spesa non ha effetti di lungo periodo sui conti previdenziali. Si da convincere la Commissione Europea, sempre molto scettica sulle operazioni che ingrossano il debito pubblico. Boeri suggerisce anche di fare in fretta, ossia di inserire questa modifica nella prossima legge di stabilità, e non oltre. Il presidente dell'Inps è iperattivo e spesso sembra sostituire il governo con le sue proposte, un ruolo che dispiace a molti politici. Tant'è che nella vicenda dell'invio della cosiddetta busta arancione, quella che arriverà fra qualche settimana nelle case dei lavoratori privati con una stima dell'assegno pensionistico che riceveranno, sia i ministeri che il Parlamento gli hanno negato i soldi necessari a comprare oltre 7 milioni di francobolli per altre tante buste. Ma l'Inps si è accodata al nuovo progetto di digitalizzazione della pubblica amministrazione, SPID, trovando caparbiamente i finanziamenti per affrancare le lettere. Molto poche, invece, saranno le risorse per la previdenza di chi lavora saltuariamente con un basso stipendio. Secondo una stima del Corriere della Sera, un precario di 25 anni, che oggi guadagna 600 euro al mese, a 67 anni dopo 47 anni di lavoro, avrebbe una pensione di soli 300 euro mensili.